Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Brawl Stars Oggi come avrete sicuramente letto dal titolo e visto dalla miniatura Ci apriremo La mega cassa delle 5000 coppe Siccome l'altra volta c'è stato opening era uno schifo Non abbiamo trovato neanche Rosa Che poi l'ho trovata da solo in una cassa normale Ehm... Mi voglio rifare E dobbiamo trovare però Corvo e Spike Lui e Spike Tra l'altro non ho neanche le gemme per shopparmi Spike Sakura se lo troverò Oppure Corvo Bianco, Corvo Felice Perché ho preso lei? Dov'è? Mannaggia lei, non so se mi conveniva Comunque Vi faccio subito vedere le probabilità Tanto è uguale, solo la quantità cambio qua Vedete? Ah no ragazzi Cosa? No Per i brawler leggendari era 0,0098 Mi sembra 96 Adesso è 0,0144 Si è alzata? Cioè guardate qua a sinistra Ecco lo screenshot Vedete? Era più bassa prima Ma cosa? Ma cosa? Molto strano Si è alzata Ok comunque seguite tutto il video Perché come a fine video Apriremo la vecchia cassa Quindi direi Sopravvivenza Proviamo In duo Si vai Con Nita Tra l'altro ragazzi Andatevi a vedere il video In cui Proviamo le quattro modalità Del momento Con Bull Lasciate un mi piace Perché ancora arriviamo a 10 mi piace E devo fare il video In cui recensiamo Bull Capito ragazzi Per quello Vabbò se no lo faccio lo stesso Tanto non fa niente Tra l'altro ragazzi Grande Piper Hai aiutato Eh qua mi infliggono danni Il mio No qua ci muoio Mannaggia Piper La odio Cerco di aiutare il mio amico Però è circondato No No è morto Non ci credo Che sfiga Li prendo io Eh qua sono morto Mannaggia Ultimi Si era meglio se me la camperavo Meno 6 Mannaggia Mannaggia Riproviamo un'altra Va E cerchiamo di rifarci subito Comunque ragazzi Grazie per il supporto Che state dando ultimamente Per Brewstars Vi deve piacere molto Anche a me Mi piace molto Eh vabbè Sono già morto Ma porcio Perché poi si chiama il primo Vabbè No raga Però no così No così no Eh no Non può essere così Non posso avere compagni stupidi Quindi farò singolo E c'è Proviamo a vincere Sì Proviamo a vincere Almeno recuperiamo Subito No raga Sono già morto No ma che mi è successo Ultimo Credo Ultimo No raga No No così no Così no Così non è possibile Ok ragazzi Me la sto giocando bene Anche con Il nostro Cappuccetto rosso Diciamo Dove vai Ammazziamola Ce la stiamo giocando bene Ragazzi Me la sto giocando bene Usiamo Eh vabbè Pennice Però L'ho spinta All'angoletto Grazie Muori A te ti distruggo Colto è stupido No non è stupido Però c'è Piper Che darà fastidio Quindi Vuoi l'orso? Io credo che vuoi l'orso Tu Cerchiamo Di chiuderlo Ok chiuso Scondro finale Con Piper Perfetto L'orso è morto No 16 Ok Potrei anche Aspettare qui Eh vuolevi Rezza Guarda Devo cerca Di circondarla Dove vai? Guarda che bastarde Stalezza Muori E abbiamo vinto Più 7 Più 7 Nita Shiba Facciamone subito un'altra Che mi sento Pronto C'è gasato Dai Sai che ti dico? Meglio qua Eh no c'è Jesse qua Qua potrei perdere Potrei Anzi no perché se n'è andata Quindi mi faccio ste due cassi No però c'è l'Ion Mannaggia Cerco di andermi a fare quella cassa lì Ok Bella Nita Shiba Quando avanza Molto Uno stile Cerco di farmi alle No raga Potremmo fare un'alleanza Quattro qua Quella bastarda Si è preso tutto Ok Muori Grazie Cerchiamo di ingannarlo L'Ion Eh qua forse ho sbagliato No non ho sbagliato Perché lo ammazziamo Ok scontro finale Orso Su Piper ora Scudo umano Ci fa prendere Dietro dietro La ulti non può usarla Si che l'ha usata Però l'ammazzo No non l'ho uccisa Non me la devo rischiare raga No raga Non posso perdere Mannaggia Mannaggia No raga questa l'ho persa No No Non voglio perderla Muori No No raga Se l'ha aperto Mi sparo No se l'è giocata male Muore Ok abbiamo vinto Fiu 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 Ma so Oh Chi possiamo usare Usiamo PAM va Ci faremo solo sopravvivenza Ragazzi Non ho voglia di fare Adesso le altre modalità Più che altro Adesso che uscirà L'evento con biglietto Adesso non ho visto Che era Potremmo fare Un video su quello Anche dai PAM Che bello Il tuo tatuaggio Tra l'altro ragazzi Non è Supercell Per favore Potresti migliorare La skin di PAM Nella battaglia Vedete il tubo In quella Nel menu Non ha quelle righe Vedete Tutte quelle righe Qua invece ce l'ha Io me la sto rischiando Però Mannaggia Spectra Vabbè Sono morto Tra l'altro Il mio compagno Vito Perché si chiama Vito Corleone Come quello della mafia Vabbò Lasciamo stare Ti prego Vito Corleone Non ci morire Minaccio qualcuno No Non è vero Oh Cura Vacci Nella cura Grande lo scudo Hai ucciso quello Però sei morto No No è lo scudo Bravo bravo Vai nella cura Vito Corleone Tu si muori Oh Che fortuna Ok Io in realtà Me la sto giocando male Tu sei un grande Vito Corleone Finora Mannaggia Meglio Che non mi faccio Shottare Dalla suppostona Leon Non sono rischiato Quello Leon Se va giù Potrebbe essere Un buon vantaggio Cura per te Cura per te Approfittane Che io sono morto Eh no Non può C'è Bull Ammazzalo Brava Bella giocata Attenta Alle bombe Qua non ti sei fatto Un bella giocata Vito Corleone Non riesco a pronunciare Qua potrei sfruttare L'occasione Saltandoli in faccia È morta Non può Fermarci Ok Abbiamo vinto Abbiamo strappato Una posizione Bella giocata Vito Corleone Vediamo se vuole Fare un'altra partita Dai accetta Per favore Peccato Eh no Ci si è avviata Ragazzi Dobbiamo farla Mannaggia Ok facciamo questa Richiediamo poi L'amicizia Vito Corleone Che mi sembra in gamba E apriamo La mega cassa Io vorrei trovare Un leggendario Ma non credo Che lo troverò Non lo troverò mai C'è Eccolo Crow Lo voglio Lo voglio Uh volevi Piper Se il mio amico Mi aiuta Ok L'abbiamo uccisa No non l'abbiamo uccisa Non è vero Ah Sì invece Perché dico Le minchiate Adrianelpro Grande Adrianelpro La gente si chiama In modo strano Per fortuna Non mi è capitato Un cinese Un giapponese O un russo Sennò come il Lego Al massimo L'inglese Io so leggere Che bastardo Era un trucco 702 pallina Se vabbè È legale Quella è la stack Quella è la stack Cioè Cioè ne ha 9 Di power up Pam È buona dai Siamo ancora In 3 squad E io me la rischio Mannaggia Pocio Non te la rischiamo Pocio Pocio Io metterei una cura qua Così tanto Mi ricarico Anche la mostra speciale Dai Tanto gli posso Prendere facilmente Questi Stecca Mi ha distrutto La base Mannaggia lui Eh non dobbiamo Rischiarci Dovremmo tipo Allontanarli Cioè Falli scannare Pocio se la sta rischiando Potrebbe morirci Cerchiamo di fare Alleanza con questi Il broccolo è morto Crow è morto Mi prendo Power up No cura Mi prendo tutto E ho vinto Abbiamo vinto Raga 14 15 Più quei 4 19 Vabbè Troppo Pi sono Sono troppo Proce Si poi ne facevo Un'altra Perdevo Richiediamo L'amicizia Quello là Vito Corleone Dai richiediamola Anche a questo Se l'accetta Poi Ok ragazzi Sono pronto 3 2 1 Mega cassa L'ho cliccata E' arrivata subito Così Mega cassa Delle 5.000 coppe Cerchiamo di trovarci Subito qualcosa Ho l'ansia Ti prego Aprimi Leggiorno Ti prego No 5 skip Se ne erano 6 205 monete E' non ci troveremo niente Probabilmente Di nuovo brawler 13 di Leon 19 Eugenio Comunque costa 80 Al negozio 80 gemme Costa Quindi Ti prego Almeno poi dammi Delle gemme Carl per 22 Ovviamente 23 di Piper Ti prego Un brawler Ma non credo Proprio No Bombardino 58 Vediamo di bonus 4 biglietti Neanche le gemme Mannaggia Sta mega cassa Non è che mi è molto piaciuta Dai almeno possiamo Potenziarci Bombardino Vediamo che Speriamo che non sia A livello 6 Eh no A livello 6 Non possiamo poter Cioè A potenziarlo 7 7 Ne ho da potenziare Perché ce l'ho a livello 6 Ragazzi Bene ragazzi Spero che questo video Della mega cassa Vi sia piaciuto Purtroppo Non ci abbiamo trovato niente Cerchiamo di arrivare A 10 mi piace Perché a 10 mi piace Ragazzi Inizierò A come dire Accumulare un altro cesto opening Non di mega cassa ovviamente Perché la prossima sarà A 6000 cop Cercherò di arrivarci comunque Velocemente Quindi a 10 mi piace Se ci arriviamo Inizierò ad accumulare Cassette Niente Noi ci vediamo presto Con un nuovo video E ciao a tutti